Questi? Questi li hanno sentiti, questi si sono uditi, perché spesso e volentieri in questa stagione dei cori razzisti nei confronti dei giocatori della Juventus sono stati ignorati, quindi magari questa volta verrà scritto sul referto di gara, questa volta verranno puniti, cercando, sperando che possano essere da spati uno a uno, uno a uno, sperando che anche l'Atalanta vada a collaborare per trovare queste persone. Perché è razzismo anche se i calciatori non sono di colore, quindi l'augurio è che tutte queste bestie possano uscire, uscire dagli stadi, al di là della convenienza di avere dei clienti comunque allo stadio, perché questi non sono tifosi, queste sono bestie, quindi spero che questa volta si siano sentiti anche se Vlaovic non è di colore, questa è la sua colpa. E anche se veste la casacca bianconera. Un Vlaovic che è stato galvanizzato da questa cosa, un Vlaovic che ha abbassato la testa, continuava ad annuire come per dire adesso vi faccio vedere io, e alla fine ha trovato la sua rivincita personale, ammutulendo, ammutulendo, mettendo a tacere per un istante mentre esultava, perché lo ripeto ancora una volta, non è l'esultanza come non era quella di Lukaku, metto già le mani avanti perché qualcuno arriverà a dire non è stato questo, non è stato questo di Lukaku, è stato tutto quello che poi ha rivolto alla curva della Juventus. Vlaovic è riuscito a rispondere sul campo, il razzismo ha combattuto a priori qualsiasi sia la maglia indossata, perché sennò si è semplicemente complici di questa cosa, quindi speriamo che queste persone possano uscire, prenderla ad aspo e non mettere più piede all'interno di un campo da calcio, e ripeto, anche se questo va contro gli interessi economici dell'Atalanta stessa, che potrebbe quindi vedersi tolti degli abbonati, chi se ne frega, perché sennò siamo complici. Detto questo, una partita che non mi aspettavo assolutamente di vincere, devo essere il più onesto possibile con voi, non mi aspettavo di poter vincere, davvero non credevo che la Juventus potesse vincere questa partita, questo risultato ragazzi è di un'importanza vitale, perché la Juve con questa vittoria va a quota 66, sorpassa la Lazio in classica e che si porta al secondo posto, a meno quattro giornate dal termine. Un'importanza incredibile, a maggior ragione, dopo i risultati di ieri, i risultati di ieri che ci sono stati all'interno della corsa appunto alla Champions League in Serie A, non mi aspettavo di vincere, ero preoccupatissimo, rimaniamo, spediamo l'Atalanta a quota 58 insieme alla Roma, e adesso c'è questo blocco composto da Juve, Lazio, Inter e Milan, quattro squadre per tre posti, ne rimarrà fuori soltanto una, vediamo che cosa accadrà, la Juve può arrivarci sia con la vittoria dell'Europa League, sia con appunto i primi quattro posti in Serie A, non è ancora finito niente, ci sono altre quattro partite, c'è un altro scontroietto proprio con il Milan che può tornare a complicare tutto, ma sicuramente questo risultato è di vitale importanza per la rincorsa, la Juventus è uno degli obiettivi, che rimangono qui a fine stagione, non mi aspettavo di vincere, non mi aspettavo nemmeno di vincere per 2-0, e anzi quel contropiede è stato abbastanza inaspettato nel finale perché solitamente la Juventus quando vince per un gol a zero vola dalla bandierina, invece Chiese e Vlaovic hanno deciso di andare a attaccare fortemente la porta ed è stato ancora più bello, è stato veramente ancora più bello perché siamo riusciti a trovare il gol di Vlaovic che risponde sul campo nel modo migliore secondo me a quelle che erano state le provocazioni veramente di persone povere, povere nell'intelletto, povere nella vita che devono avere veramente una vita terrificante, un'intera curva che si mette a inveire contro un ragazzo di 20 anni è qualcosa che mi fa veramente dubitare, un'intera curva per minuti e minuti che si mette, mi fa dubitare che ci possa essere speranza, ma speriamo che possa sbagliarmi io in questa roba qui. Vi devo dire la verità, per quello che abbiamo visto sul campo è una vittoria molto strana perché la Juventus secondo me era partita molto bene nei primissimi minuti del primo tempo, i primi 5 minuti avevamo mostrato un atteggiamento diverso da parte della Juve, se il primo tempo invece poi finisce con un gol almeno dell'Atalanta non ci entra a dire perché sul campo l'Atalanta era arrivata a creare a diverse occasioni il palo di Scalvini nel primo tempo che veramente è stato qualcosa che ha messo a dura prova le mie coronarie, però la Juve riesce ad andare a riposo per 0-0, una partita nella quale l'Atalanta aveva gestito molto bene secondo me il campo dove la Juve aveva avuto due buone occasioni nate dal pressing nei primissimi minuti dove poi la Juventus si era abbassata, aveva accettato il gioco dell'Atalanta, aveva deciso soltanto di mettersi a difesa, soltanto in difesa del risultato e basta. Quindi questa cosa aveva un pochino fatto venire fuori l'Atalanta dal match in senso buono e aveva fatto uscire invece in senso negativo la Juventus. Poi cosa succede? Che nel secondo tempo c'è questo scontro tra giocatori dell'Atalanta che mettono Rabiot e Hiding Junior nella migliore condizione possibile per cercare di strutturare un'azione sulla sinistra. E' proprio un ragazzo all'esordine Serie A dal primo minuto trova un gol importantissimo per mille ragioni che possano partire dal suo sviluppo di carriera dove aveva già fatto una stagione molto molto buona nelle rare occasioni in cui le avevamo viste appunto alla prospettiva legata invece alla qualificazione Champions della Juventus. Quindi queste cose sono state bellissime, questa cosa è stata veramente meravigliosa. Mi sono emozionato un sacco a vedere il Golden League. E' stata veramente un'emozione incredibile, incredibile. Quindi questo mi rende super orgoglioso. E poi l'Atalanta comunque non ha mollato, anzi ci ha provato, continuava a provarci. E la Juventus continuava a difendersi. C'è da fare un plauso incredibile in prima persona a Daniele Rugani che ha fatto una partita meravigliosa. Si è messo in tasca a Duvanzapata. Non gli ha dato possibilità di respirare. Quindi veramente Rugani credo sia stato il migliore in campo. Poi nelle pagelle domani sicuramente andremo a discuterne ma in maniera più dettagliata l'idea è portarvi la live reaction nel pomeriggio e domani mattina le pagelle. Quindi se volete sapere, questa è un po' la mia idea. Quindi bene, bene, bene Rugani. E Locate ha dato una grandissima mano da schermo davanti alla difesa proprio per cercare di aiutare ancora di più il suo compagno di reparto che non ne stava giocando tante. Aveva annullato così bene, aveva fatto una partita incredibile su Osimen. Oggi l'ha fatta a Sudo Vanzapata. Quindi benissimo, veramente Rugani l'ha chiamato in causa molto 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 bene. E poi l'Atalanta ci crede ancora, spinge. L'Atalanta non so quanti calci d'angolo abbia battuto. Non finiva mai sta partita. Non so se anch'io ho avuto questa impressione di una partita che era diventata veramente infinita. Una partita che continuava a non trovare mai il fisco. Guardavo il cronometro, mancavano 20 minuti. Guardavo il cronometro e mancavano 15. Nel mentre pensavo fosse passato invece almeno un anno. C'è il palo di Zappacosta. C'è una punizione molto pericolosa. La parte di Muriel dove Cesni deve cercare di disinnescare il pericolo. Quindi ci sono veramente un botto di pericoli creati dall'Atalanta. C'è questo muro della Juventus che regge. E c'è poi quella ripartenza nel finale dopo quel bruttissimo episodio di razzismo nei confronti di Vlaovic dove la Juventus riesce a chiudere la partita. La Juventus si porta sul 2-0 e vince uno scontro diretto veramente incredibile. Perché io avevo delle sensazioni molto, molto negative e sono felicissimo di essermi sbagliato. Sono soddisfatto del risultato 101%. Della prestazione ovviamente, come dicevamo, l'Atalanta ha creato tanti pericoli e la Juventus ha spesso e volentieri rischiato. Però vi dico una cosa. In un momento del genere in cui l'Atalanta era in super forma dal punto di vista dei risultati e di quello che raccoglieva sul campo. E una Juve che invece era molto, molto lontana da una forma accettabile, proprio anche dal punto di vista di continuità di vittorie, riuscire a fare una partita del genere, che non è la partita più bella del mondo, non è la partita in cui meriti, ma tu riesci a fare questa partita qua e portare a casa il risultato è un segnale. È un segnale che il gruppo si sta ritrovando, è un segnale che le cose si stanno rimettendo a posto. Che non significa che la Juventus ora è una squadra che convince, è una squadra che merita sul campo, perché non è quello semplicemente che abbiamo visto oggi. Però significa che ci sono dei passi avanti evidenti e se le metti la partita di Bologna, la partita con Lecce e la partita di oggi, sono tre partite che vanno in controtendenza rispetto a un aprile terrificante che abbiamo visto. Questo sarà sufficiente giovedì per l'Europa League? Io questo non ve lo so dire, non ve lo posso dire. Ovviamente vi dico, dal punto di vista del campo, c'è stata più Atalanta che Juventus, quindi magari in Europa e magari contro una squadra come il Sevilla che in Europa League soprattutto ha una marcia differente, forse no, forse non basta. Però oggi dobbiamo semplicemente goderci invece questo risultato incredibile per due motivi. Uno perché ti proietta al secondo posto in classifica e questo aprirebbe anche la possibilità di andarsi a giocare la Supercoppa l'anno prossimo perché con la nuova Final Four chi arriva seconda in Serie A partecipa alla Final Four e perché semplicemente dopo due anni di quarti posti almeno l'idea di poter pensare di arrivare almeno in seconda posizione è qualcosa che non dico che ti renda orgoglioso perché la Juventus è il secondo posto è soltanto il primo di quelli che hanno perso, però sicuramente è anche qualcosa di diverso rispetto ad arrivare sempre lì nella prima posizione utile per qualificarsi alla Coppa e a me parlare di quarto posto come obiettivo della Juve sinceramente dà fastidio, mi dà sui nervi, mi dà noia perché la Juve non può ragionare in funzione del quarto posto deve puntare sempre alle primissime posizioni se non ci riesce su un periodo degli altri allora almeno al secondo posto la Juve deve provare a puntare perché le qualità per arrivare nel secondo posto in Serie A questa Juventus le ha alla grandissima e le abbiamo viste. In seconda battuta perché mi ha dato talmente tanto fastidio quell'episodio terrificante che abbiamo visto dentro la partita che sapere che li abbiamo battuti e Vlaovic stesso gli ha fatto il gol in faccia dopo che si era beccato dieci minuti cinque, sette, dieci minuti perché è stato anche prolungato il recupero proprio per questo e quei minuti in più che nascono da cui nasce proprio il gol di Vlaovic sono partoriti dall'ignoranza e dal razzismo di quei deficienti ovviamente non tutti ma di quei deficienti che dentro la curva dell'Atalanta hanno fatto quella roba lì è una cosa che mi fa godere tantissimo quindi oggi mi prendo questa doppia soddisfazione dal punto di vista della classifica perché ti metti oggettivamente una posizione di vantaggio a quattro alla fine e perché poi vedere certe cose e il fatto che due minuti in più nascono proprio per quello e quei due minuti in più poi ti portano a subire il gol del 2-0 dal calciatore preso di mira beh, è ancora tutto più bello